Questo rappresenta il momento più interessante, più vivace dell'attività dei dottorandi del nostro Dipartimento perché sono loro che propongono un argomento per il seminario che è ovviamente un argomento di ampia portata che possa interessare l'intero ciclo dei dottorandi ed è anche in un certo senso autogestito, autorganizzato, sono loro che promuovono l'iniziativa, che contattano gli studiosi da coinvolgere. La seduta di oggi, come sapete, riguarda un tema importante che è la costruzione della mascolinità, un tema forse emerso, poi diranno gli studiosi meglio di me, è emerso e ha fermatosi sul dibattito internazionale grazie all'opera di George Moss, ma poi da George Moss in avanti molti contributi sono stati pubblicati. in particolare penso che si stia realizzando una tradizione italiana su questi studi che da una parte mettono a frutto la riflessione sulla categoria e quindi una chiave più generale, rimettendola anche in discussione, dall'altra parte, e questa è la specificità, un po' raccolgo di frutti di una stagione che è stata particolarmente ricca nella storiografia italiana degli anni Ottanta, cioè la microstoria, l'attenzione al caso singolo, la ricerca archivistica, che naturalmente rimette fortemente in discussione e complica il quadro, lo problematizza e quindi credo che anche molte delle ricerche, ora ovviamente penso quella di Andrea Sortino, si inseriscono esattamente in questo filone. Io non rubo altro tempo, però vorrei veramente ringraziare gli amici e colleghi, Sandro Bellassai, Domenico Rizzo e come sempre in questa occasione c'è anche un po' di amarezza perché sarebbe stato molto più carino, molto più simpatico vederci di persona e però questa è la situazione. Buon lavoro, io seguirò attentamente. Grazie. Allora, io direi, mi presento, sono Andrea Sortino e toccherà anche a me parlare prima o poi, quindi da buon maschio in crisi, diciamo, se veramente questa categoria la possiamo ancora utilizzare, ma partiamo con il professor Bellassai che farà la prima relazione, il primo intervento, poi farò un piccolo intervento io e poi chiuderemo con il professor Rizzo e poi spero di stimolare un po' di alcune domande che sono sempre in effetti, io credo. Quindi la cosiddetta crisi del maschile è il titolo della relazione del professor Bellassai. Io mi si autosilenzio, lo ascolto con attenzione. Grazie. Ok, mi sentite? Spero di sì. Buongiorno a tutte e tutti, grazie per questo invito. Un saluto particolare a Pinzia, sempre così gentile. Allora, quello che volevo fare oggi è una piccola riflessione, una riflessione scettica, come si vede forse dal titolo del chi ho scelto per la relazione, su questa, diciamo, locuzione che ricorre molto spesso nella storia e anche oggi, cioè la crisi del maschile. Il concetto sarebbe quello che il genere maschile ha subito un indebolimento, una perdita di centralità, quindi sia dal punto di vista sociale, sia però anche dal punto di vista individuale e in qualche caso anche clinico, come vedremo. Questa è, diciamo, la rappresentazione e il panorama. Allora, mi interessa, visto che io più che altro mi occupo di rappresentazioni di genere, mi interessa vedere come questo discorso complessivo, che naturalmente è molto vario e molto complesso, quindi io, mi scusi in anticipo, farò, taglierò, insomma, con l'accetta, una serie di questioni e di temi, e quindi, dicevo, mi interessa vedere come questo discorso complessivo maschile si articola, che argomenti, che motivi retorici utilizza, e poi mi interessa vedere se, come spesso, praticamente quasi sempre si dice quando si suscitano queste paure sulla crisi del maschile, se davvero è un fenomeno, come dire, inedito, che sta accadendo adesso, e che noi siamo i primi a vivere, oppure se invece ha una storia, diciamo così. E poi, naturalmente, una piccola riflessione, così, come dire, non dico personale, ma, diciamo, soggettiva da parte mia sulle motivazioni che portano, evidentemente, in maniera, diciamo, coattiva, forse anche in un certo senso compulsiva, a ripetere nella storia, almeno nella storia contemporanea, questo tipo di retoriche, a utilizzarle continuamente. Allora, quando, diciamo, crisi del maschile, o crisi della mascolinità, o mini crisi, insomma, utilizziamo dei termini che si riferiscono, per quello che si può vedere in giro, appunto, nella maggior parte dei casi, a scenari di trasformazione, di mutamento storico, che naturalmente sono interpretati da chi utilizza queste espressioni come, diciamo, dei fenomeni che hanno delle conseguenze piuttosto negative, perché il concetto di crisi certamente non induce all'allegria, insomma, o non è certo trionfale. Quali sono questi fenomeni, questi scenari di mutamento che metterebbero in crisi gli uomini? Allora, prima di tutto mi riferisco all'oggi, cioè a se noi andiamo a guardare, facendo anche banalmente un giro con un motore di ricerca, digitando queste espressioni, o, per quello che leggiamo sulla stampa, sui media in generale, il sorpasso delle donne in molti casi, per esempio a livello formativo, nella formazione, ai migliori successi delle ragazze rispetto ai ragazzi, oppure la femminizzazione di alcune professioni, di alcuni settori professionali, non necessariamente professioni in senso stretto, ma, insomma, diciamo, i ambiti del mondo del lavoro, la dittatura, almeno così qualche volta si dice, anche del politicamente corretto, e forse in queste ultime 48 ore abbiamo avuto un'altra, come dire, sceneggiata mediatica su questo, grazie al famoso vademecum dell'Unione Europea, per il Natale, eccetera, e infine, ma non, come si dice, last but not least, il Viagra. Il Viagra, che nasce, diciamo, alla fine del secolo, dal punto di vista scientifico, e che si diffonde in un modo esponenziale, come sappiamo, in tutto il mondo, ti dico Viagra, ma possiamo citare altre marche, diciamo così, ma, insomma, il concetto è la restituzione di una potenza virile, e qui virile vuol dire proprio in senso clinico, cioè l'impotenza sessuale, o la potenza sessuale, grazie a questa magica pillolina blu, che, diciamo, infonde sicurezza, naturalmente, ma forse ben al di là della, come dire, situazione personale, individuale, e ben al di là dei problemi, delle insicurezze che ci possono essere per il singolo uomo, insomma. Cioè è un fenomeno sociale che provvidenzialmente, in qualche modo, arriva a risolvere, o perlomeno a dare una parvenza di soluzione, a un problema sociale, ma nello stesso tempo fa emergere una condizione di, se non fragilità, comunque, insomma, di una condizione problematica, della virilità in senso clinico. Tutti questi, diciamo, discorsi hanno un tono, tutti questi discorsi complessivi che utilizzano questa espressione, che cercano di approfondire la questione della crisi del maschile, utilizzano quasi sempre un tono, come dire, crepuscolare, malinconico, cioè come se fossimo quello che Spengler diceva il tramonto dell'Occidente, ormai cento anni fa. Ecco, credo che, appunto, ci sia una continuità in questi discorsi, ed è quello che voglio provare a vedere assieme a voi. Io comincio con una citazione di Stefano Ciccone, da un volume abbastanza recente, che si chiama, tra l'altro, Maschi in crisi, punto interrogativo, quindi, diciamo, che è perfettamente coerente, oltre alla frustrazione e al rancore, è stato pubblicato nel 2019 da Rosenberg S.L. Dice Stefano Ciccone, La crisi della mascolinità, tra virgolette questa espressione, è insomma un luogo comune che rimanda a immagini molto diverse, gli uomini femminilizzati e quelli in depressione, la riduzione della fertilità maschile e la nuova incapacità degli uomini di corteggiare le donne, la discriminazione dei padri separati, ma anche la crescita della violenza maschile, che deriverebbe dalla, virgolette, perdita delle doti virile dell'autocontrollo, chiuse virgolette, e del tradizionale, virgolette, rispetto per le donne, chiuse virgolette. Spesso, come abbiamo visto, la crisi maschile viene associata a una crisi più generale della società. Il disordine sociale, tra virgolette, attribuito alla rottura della funzione normativa paterna, un occidente femminilizzato è perciò esposto all'aggressione di un Islam arcaico, ma virile. Ecco, mi sembra che questa breve citazione riassuma abbastanza bene tutta una serie di temi, naturalmente sono solo alcuni, si potrebbe citare molti altri esempi. Sempre, dal punto di vista storico, cioè se guardiamo non solo all'oggi, ma agli ultimi decenni, questo tipo di retorica, perché la chiamo più comodamente una retorica della crisi, ha fatto ricorso a concetti come svirilizzazione, femminilizzazione oppure, a fine Ottocento, degenerazione, che all'epoca era una parola abbastanza fatidica e abbastanza usata. Per capire, dal mio punto di vista, perché sin dal secondo Ottocento avanza questo discorso angoscioso degli uomini, perché appunto poi sono gli uomini stessi a lanciare questo allarme di un'apocalisse dietro l'angolo, sostanzialmente, per capire, secondo me, come mai si sviluppa questo tipo di retoriche della crisi, è necessaria una brevissima panoramica su alcune questioni fondamentali della storia della mascherinità, dal mio punto di vista, in particolare storia del virilismo. Io qui intendo per virilismo una cultura, che è politica naturalmente, perché parliamo di relazioni di potere, di libertà tra i generi e anche all'interno di uno stesso genere, diciamo una cultura politica che fa della virilità, quindi della vera, rude, forte, sicura, dominante, superiore, mascolinità rispetto alle donne, rispetto agli uomini devianti, dicevo, fa di questo valore una cifra non soltanto personale nell'ambito del privato, nell'ambito, ma anche dal punto di vista politico, cioè come viene poi riassorbita e rilanciata anche nelle retoriche politiche, pensiamo al nazionalismo e poi ovviamente al fascismo, ma in realtà sono termini e concetti soprattutto, quindi dimensioni dell'immaginario che attraversano tante culture politiche e non solo politiche, che attraversano anche il senso comune negli ultimi più o meno 150 anni. Parlo soprattutto dell'Italia, ma non è un fenomeno ovviamente soltanto italiano. Nel momento in cui il soggetto maschile si è costituito storicamente come il soggetto, non come un soggetto, quindi come il rappresentante esclusivo o meglio più perfetto della specie umana e dell'umanità, si è proposto, si è autopresentato come soggetto neutro, non come soggetto specifico e quindi una specie di essere umano per antonomasia. Nel momento in cui la figura maschile, il personaggio maschile, incarna l'umano stesso e non la parte maschile dell'umano, come sempre invece succede alle donne, le donne non sono mai storicamente, ma forse purtroppo neppure oggi, prese come rappresentanti dell'umanità, ma sono sempre connotate agli occhi di chiunque come la parte femminile dell'umanità. Per gli uomini questo ovviamente non vale, dico ovviamente perché gli uomini sono stati e sono il genere dominante, questa è specificamente una dinamica legata a un privilegio, legata alla supremazia. Quindi nel momento in cui l'uomo, l'uomo nel senso di maschio, si presenta appunto come soggetto neutro e quindi si autonomina in qualche modo rappresentante dell'umanità stessa, i problemi del maschile diventano i problemi dell'umanità, cioè c'è una specie di estensione di questo. E quindi nel momento in cui si crede di vivere, di attraversare una situazione, una fase critica per il potere patriarcale oppure per l'integrità virile della parte maschile dell'umanità, questo immediatamente viene espresso in termini apocalittici, come se tutto questo significasse immediatamente fine del mondo, fine dell'umanità, perché il mondo appunto agli occhi di questi apostoli della virilità era semplicemente la loro stessa identità sostanzialmente, essendo loro i motori, i pilastri di questo ordine sociale. Cioè in un certo senso, come dopo di me il diluvio, cioè se io crollo, crolla tutto il mondo. Queste retoriche della crisi io credo sono il sintomo sociale di un mutamento epocale delle relazioni tra i generi e delle identità di genere in epoca contemporanea. Cioè sono la forma discorsiva, la forma retorica, che assumono frustrazioni, sicurezze, paure del genere maschile. E ripeto, non sono paure singole, personali, individuali, non sono solo queste, ma si esprimono in termini sociali. Cioè il vero problema, o uno diciamo almeno dei problemi, è questa figura femminile che dall'Ottocento in avanti, sicuramente a livello sociale, quindi all'interno della società, si pone sulla via della cosiddetta emancipazione, che sicuramente rivendica maggiori diritti, una minore disuguaglianza e quindi una maggiore libertà fino ai giorni nostri. Evidentemente questa situazione di un soggetto altra, forzando un pochino la grammatica, che rivendica maggiore autonomia, maggiore spazio, viene immediatamente percepita dal maschile, da quel maschile virilista, come una sottrazione di senso, una sottrazione di peso quasi, a se stesso. Cioè è come se un centimetro guadagnato dalle donne fosse immediatamente un centimetro perso dagli uomini, cioè una specie di, se vogliamo, concezione aritmetica della libertà. Questo, diciamo, suscita non solo un sentimento di crisi, ma letteralmente una angoscia di tipo apocalittico. Io vi leggo molto velocemente quello che scrive un politico polacco che è anche un sacerdote, una storia della Polonia, questo non è ovviamente raro, nel 1900. È citato da un libro di Gisela Boc, che è la storia delle donne in Europa. Sotto il pretesto di uguali diritti, scrive nell'anno 1900, le donne vogliono oggi raggiungere il dominio sugli uomini. Se questo si verificasse, la nostra nazione si troverebbe ad affrontare una catastrofe ancora più grande di quella della divisione. Infatti, se questo insano principio si rifonderà, se le donne tenteranno veramente di governare con la scusa degli uguali diritti, la loro antipatia nei confronti degli uomini si rafforzerà e gli uomini perderanno il rispetto e l'ammirazione nei confronti delle donne per paura che tocchi loro in moglie una donna emancipata. La paura impedirà loro di sposarsi, condurrà al declino della famiglia, alla degradazione della società e alla perdita del paese. Per questo motivo l'emancipazione femminile è il nemico mortale di ogni nazione. Questo è abbastanza forte, ovviamente, come vedete, ma sono parole isolate. Questo è un esempio tra i mille, davvero che in questo periodo, nella cosiddetta Belle Epoque, tra oltre 900, noi potremmo trovare. Questo processo di sottrazione delle donne all'autorità totale, diciamo, patriarcale maschile, viene spesso definito come mascolinizazione. Cioè nel momento in cui le donne non accettano di rimanere nel recinto identitario, sociale, che gli uomini hanno predisposto per loro, questo significa che stanno oltrepassando il confine tra i due, tra il rosa e l'azzurro, sostanzialmente, tra i due genere. Quindi si mascolinizzano. Il problema è che le identità di genere non sono qualcosa che vive le singole, cioè il maschile e il femminile. Qui parlo di queste due grandi, ovviamente non esistono solo queste, ma dal punto di vista storico sono queste, diciamo, sulla scena i veri giganti, intendo maschile, eterosessuale, bianco di classe media quasi sempre e un femminile come dire ortodosso. Cioè due identità appunto in rosa e l'azzurro come si potrebbe dire canoniche, ortodosse. Allora nel momento in cui cambia l'identità femminile o minaccia dal punto di vista maschile di cambiare l'identità femminile, neanche gli uomini possono continuare come prima. Cioè le identità di genere sono, queste identità di genere sono legate tra loro da un rapporto di relazionalità, di reciprocità, per cui ciò che si intende per donna alla fine finisce per condizionare anche ciò che si intende per uomo. Non è qualcosa che si può assolutamente ignorare. Questo significa che mascolinizzazione delle donne viene percepita come, immediatamente come femminilizzazione degli uomini. Cioè come una perdita dei confini netti, chiari, dicotomici, tra questi due generi. Non è un caso che la fine dell'Ottocento è anche il periodo in cui si diffonde una paura sociale, un'allarme sociale per l'omosessualità e che si adottano provvedimenti legislativi in vari paesi d'Europa, non in Italia, per pulire i comportamenti, gli atti omosessuali, quasi sempre maschini, quasi mai l'omosessualità femminile. Qui ci sarebbe un interessante discorso da fare, ma non abbiamo il tempo. Perché appunto l'omosessuale è l'incarnazione di questa confusione tra i generi che è vista appunto come una vera e propria fine del mondo. Quindi a partire dal secondo ottocento, per reagire a questa, diciamo, confusione, a questa promessa, questo annuncio di Apocalisse, gli uomini rafforzano i tratti più tradizionali della mascolinità e quindi attributi identitari associati alla virilità come appunto la forza, il coraggio, la predisposizione alla disponibilità, alla violenza, quindi sicuramente la sicurezza, il dominio, l'autocontrollo, eccetera. Ora, questo è un complesso di equazioni, se vogliamo, politiche che circola sicuramente fino, ampiamente fino agli anni Sessanta del Novecento. Posso citare velocemente un altro articolo del 1951 sul settimanale Oggi, che esisteva all'epoca e anche all'epoca era molto diffuso. si parlava degli Stati Uniti, in questi anni gli Stati Uniti sono, come per altri aspetti era stata la Francia tra le due guerre, il paese che ci sta già anticipando, quindi noi possiamo leggere quello che saremo tra vent'anni o tra dieci anni guardando a quello che succede lì. Allora, dice questo articolo che le donne americane si impongono con sottile astuzia sull'animo dei bambini, deformandone all'origine la futura personalità, indossano i pantaloni e spodestano il marito trattandolo come un servo davanti ai figli. Gli uomini non sanno più ribellarsi, non sanno più come si fa ad essere uomini, tra virgolette, ed hanno perduto addirittura il ricordo del tempo in cui il pater familias era signore indiscusso e giudice infallibile della tribù domestica. Quindi vedete uno scenario non solo estremo, esagerato, ma chiaramente connotato come apocalittico, come qualcosa di davvero patologico. Qui vediamo benissimo un'altra dimensione importante, un altro elemento importante di questa dimensione retorica sulla crisi, e cioè la misoginia, cioè la rappresentazione delle donne nel loro insieme, quindi del genere femminile in generale, come un soggetto pericoloso, cioè come un soggetto che in certi casi addirittura trama, un po' come gli ebrei tramano nell'ombra secondo gli antisemiti degli ultimi due secoli, per conquistare il potere, per annientare il maschio, per instaurare una dittatura matriarcale. Questo è il mito del matriarcato, anche su questo sarebbe interessante soffermarsi. L'altra dimensione, oltre al mutamento femminile, che impensirisce moltissimo gli uomini da 150 anni, è quella del mutamento storico stesso, cioè dei processi, che significa in epoca contemporanea, dei processi di modernizzazione, soprattutto dal secondo 800 in avanti. Questo orizzonte di una modernità galoppante che l'opinione pubblica, e quindi non solo intellettuali, scienziati, politici, eccetera, ma anche l'uomo medio, percepisce già benissimo a fine 800, pensiamo semplicemente alle scoperte, alle innovazioni tecnologiche, poi insomma, a una serie di trasformazioni anche dal punto di vista delle culture politiche, allargamento del suffragio maschile, cioè una trasformazione della società e del sistema, del potere in generale, in senso leggermente più, come dire, laico, egualitario, leggermente, più egualitario sempre all'interno del genere maschile, e tutto questo viene percepito come fonte di insicurezza. La stessa urbanizzazione, per esempio, che è uno dei cardini dei processi di modernizzazione, viene percepita come minacciosa da un lato, perché si dice l'ambiente urbano favorisce quello che Mantegazza, un grande scienziato e anche senatore del Regno della seconda metà dell'Ottocento, chiamava il nevrosismo, cioè favorisce l'insorgere di disturbi nervosi, la velocità della vita frenetica quotidiana nelle città, eccetera, rispetto invece a questo paesaggio idilliaco del passato, visto come qualcosa di appunto assolutamente come una specie di paradiso perduto. Ecco, paradiso perduto è un altro termine, un'altra espressione che dobbiamo tenere presente quando parliamo di retoriche della crisi del maschile, secondo me, perché, come dire, il sottotesto di questi discorsi è che sia esistito fino a ieri praticamente una specie di paradiso maschile, virile, in cui gli uomini insomma, beatamente erano riconosciuti nel loro valore, venivano celebrati sul loro piedistallo della supremazia e della loro integrità virile e poi a un certo punto per una serie di motivi che non si capisce bene da dove arrivano viene scaraventato giù dal... e quindi questo paradiso finisce, ovviamente come nella Bibbia la cacciata dal paradiso è ancora una volta colpa di una donna, ma è anche colpa appunto di questi processi di modernizzazione, perché la mascolarietà tradizionale quella che dal punto di vista politico rivendica e intende riprodurre all'infinito una superiorità del maschile sul femminile si aggancia dal punto di vista della legittimazione della supremazia sull'orizzonte diciamo si lega all'orizzonte etico della tradizione, cioè è sempre stato così e quindi è giusto che vada così. il problema è che nella contemporaneità c'è un clima adesso davvero taglio con l'accetta culturale prima ancora che politico in cui praticamente non esiste niente che non possa essere messo razionalmente in discussione e quindi questo mondo di idoli intoccabili dell'anzian regime a cominciare dalle gerarchie sociali e di genere naturalmente non sono più appunto intoccabili non sono più innominabili allora in questo continuo diciamo processo di critico razionale laico che poi secondo appunto gli apostoli di verità conduce al relativismo conduce appunto alla perdita totale di qualsiasi punto di riferimento reale che dia senso alla vita delle persone in tutto questo c'è una contraddizione maschile perché gli uomini storicamente sono il genere maschile e il genere che naturalmente essendo al potere praticamente in tutti i ganghi della società e dell'economia a partire appunto in alcuni paesi europei da metà ottocento promuove ovviamente processi di modernizzazione industrializzazione progresso eccetera dall'altro però si rende conto che questo stesso progresso genera effetti svirilizzanti cioè si parlava appunto di degenerazione a fine ottocento parola ripeto usatissima negli ultimi decenni del secolo e poi si continua con appunto indebolimento femminilizzazione fino ad arrivare appunto agli esiti che abbiamo visto degli anni 50 e 60 in cui di nuovo si denuncia questo pericolo io credo che mi rimangono forse 5 minuti non so chiedo conferma perché mi sono un po' perso con l'orologio direi che posso ancora concludere allora in qualche modo ora è ovvio che come dire avere paura della modernizzazione della modernità è una cosa che oggi fa forse sorridere nel senso che non è più possibile almeno in Italia parlo di coordinate tecnologiche specialmente italiane ma forse adattabili con qualche variazione anche ad altri paesi almeno dal boom economico in avanti diciamo non è più possibile parlare male diciamo della modernità e risultare credibili dal punto di vista dell'opinione pubblica perché la modernità è ormai quasi un concetto vintage diciamo noi siamo nella post modernità ma non solo nei libri di qualche intellettuale già negli anni 80 o 70 ma nella nostra esperienza quotidiana cioè quello che viviamo è un mondo in cui anche quell'aspetto della modernità di una proiezione verso il futuro si è praticamente perso credo che adesso nessuno osi davvero immaginare un futuro che vada oltre il giorno dopo soprattutto dal punto di vista sociale quindi noi viviamo in una specie di paesaggio continuamente insicuro e precario in cui la globalizzazione come parola ha preso il posto angoscioso in certi casi che una volta aveva appunto il concetto di modernità la globalizzazione è percepita da alcuni come qualcosa che distrugge le radici addirittura etniche secondo qualcuno delle culture dei paesi delle società eccetera e quindi abbiamo come dire un patrimonio ereditato dai padri che dobbiamo in qualche modo difendere in termini di valori di principi anche di religioni secondo alcuni quello che succede oggi è appunto una specie di effetto nostalgia per qualcosa che naturalmente non è mai esistito cioè questo paradiso perduto appunto della mascolinità ancestrale o comunque antica che adesso nella modernità a causa delle donne sciagurate oppure delle dinamiche fuori controllo appunto della modernizzazione e poi della globalizzazione siamo sul punto sempre di perdere in realtà io credo e qui davvero concludo che tutto questo insieme di discorsi sia ovviamente una enorme mistificazione cioè quello che o meglio mi spiego meglio non voglio sottovalutare minimizzare o peggio negare che esista un disagio maschile diffuso cioè che effettivamente tanti uomini e quindi questo diventa un fenomeno di massa sociale non solo individuale abbiano la percezione di uno smarrimento di una confusione e quindi di una insicurezza e di un senso di frustrazione ma io credo che questa crisi maschile in realtà sia una crisi patriarcale cioè non sia la crisi dell'uomo in quanto parte maschile dell'umanità ma sia la crisi dell'uomo che si pretende appunto come dire titolato destinato a una condizione di maestà sociale politica rispetto alle donne rispetto agli uomini considerati devianti eccetera eccetera che finalmente come dire sta entrando in crisi allora se entra in crisi quell'ordine gerarchico questo non vuol dire che gli uomini sono in crisi vuol dire che un certo ordine politico mostra come dire la corda ma ormai da diversi decenni insomma non soltanto il problema è che molto spesso come uomini come genere maschile non riusciamo a concepire un altro orizzonte identitario per noi stessi come genere che non sia quello del piedistrato del potere che non sia quello appunto di una qualche sicurezza legata però sempre a un privilegio a un vantaggio a una configurazione gerarchica fino a quando io credo noi non supereremo non ci libereremo di questa mentalità come dire monarchica per abbracciare invece un orizzonte diciamo repubblicano e inevitabilmente quella crisi che è la crisi di un sistema di potere verrà percepita come una crisi come dire fisiologica come una crisi clinica e quindi questo continuerà a rimanere una specie di vicolo c'è cioè sostanzialmente il credo che sia quello che abbiamo di fronte questa cosiddetta appunto crisi del maschile sia un cortocircuito di un destino gerarchico a cui si è voluta legare da secoli la salute collettiva degli uomini in quanto maschi quindi non è un virus che attacca le cellule di ogni organismo maschile in quanto tale ma è l'espressione soggettiva retorica di un disfacimento oggettivo di quell'ordine imperativo disuguale esclusivo che è stato costruito nel corso dei secoli dal genere maschile dalla parte ovviamente più dotata di potere del genere maschile a immagine e somiglianza non tanto della propria superiorità naturalmente ma forse della propria paura profonda della libertà mi fermo qua grazie professore continuiamo con la mia relazione quindi mi autopresento e mi toccherà condividere lo schermo quindi farò ben tempo a condividere il mio schermo evitando di sembrare un boomer vediamo se ce la faccio sì ma non lo usi come un insulto boomer no non non lo uso come un insulto però vedete vedete qualcosa ok benissimo grazie questa mi ha tolto un tante allora io non parlerò precisamente del tema della crisi anche se essendo maschio la crisi a quanto pare in qualche modo mi non so non ne sono esente parlò più che altro del mio progetto di ricerca o di quello che sto cercando di realizzare nel mio progetto di ricerca per il dottorato il titolo è per noi altri rimedi io sono Andrea Sortino come ho detto prima allora il mio progetto di ricerca si colloca nell'albio degli studi di storia della psichiatria studi che almeno per quanto riguarda l'Italia diciamo hanno un debito dal punto di vista metodologico sulle riflessioni scontano un debito sulle riflessioni di Michel Foucault e risentono almeno io credo nel partire degli anni 70 da quella che è la critica anti-autoritaria diciamo alle istituzioni totali e quindi penso alla critica di Basaglio e però soprattutto si colloca diciamo secondo me all'interno di una nuova filone storiografico che io diciamo sostanzialmente parte con il nuovo millennio con la pubblicazione ad esempio del libro non me ne vorrà la prof se la cito nel 2002 di Matti di Vagabondi che ha messo al centro appunto l'istituzione manicomiale questa nuova storiografia che considera appunto il manicomio come un'istituzione molto dinamica che dialoga in maniera feconda con la società nelle varie articolazioni sono tre secondo me gli elementi che rendono questa storiografia della storia della psichiatria molto interessante e uno è sicuramente il concetto di storicità della malattia mentale che considera appunto la malattia mentale non una struttura fissa ma appunto considera i disagi e le sofferenze come qualcosa che ha un rapporto profondo con le trasformazioni della società e credo la forza dell'approccio di l'ottica storico-psichiatrica sia quella diciamo di utilizzare le fonti che sono molto importanti per gli storici utilizzare la multiforme documentazione che è prodotta dagli enti manicomiali quindi penso insomma alle cliniche ma anche alle perizie medico-legali all'elettrica eccetera ora all'interno di questo fenomeno di studio credo si possa diciamo dire che mancano sono pochissimi studi che riguardano il manicomio criminale che a mio avviso ha una specificità notevole i manicomio criminale in batti nascono dopo un dibattito teorico che ha a che fare con la figurata del cosiddetto follereo il cosiddetto matto criminale un dibattito molto fecondo che per quanto riguarda in Italia coinvolge almeno l'antropologia criminale con De Signano ma comunque con Cesare Lombroso e i positivisti lombrosiani diciamo e poi soprattutto è importante perché in un'ottica appunto la figura del follereo è plasmata diciamo da almeno questi tre saperi penso dal lato della scienza giuridica dal lato dell'antropologia criminale e la scienza diciamo psichiatrica questo rende l'individuo il follereo molto interessante dal punto di vista storico poi il polichinico della delinquenza citando uno dei positivisti che ha definito così il manicomio criminale perché il manicomio criminale è questo istituto totale che sostanzialmente mutua stilemi carcerari diciamo quindi è un po' carcere un po' manicomio quindi questo rende ancora di più interessante e poi tornando al tema delle fonti ci tengo molto le perizie medico-legali che sono assolutamente molto interessanti perché quando si è fortunati nelle cartelle cliniche si trovano quelle di manicomio criminale appunto si trovano queste perizie diciamo dove abbiamo questi linguaggi appunto l'antropologia criminale il diritto e la psichiatria si mescolano e abbiamo la possibilità anche di ritrovare gli atti giudiziari e quindi la fonte sostanzialmente si apre alla complessità e quindi se la storia è scienza della complessità la perizia medico-legale è molto interessante io per dirvi che effettivamente ci sono stato realmente ho fatto ricerca per la mia tesi magistrale e da qui parto per la mia tesi di dottorato del manicomio criminale di Barcellona posto di Cotto in Sicilia dove non abbiamo solo il mare ma abbiamo anche un manicomio criminale è l'unico appunto in Sicilia queste sono le fonti che utilizzo le cartelle cliniche questa è diciamo quelli che ho definito i segni lombrosiani perché la cartella clinica secondo me sconta una certa resilienza di questi segni di Lombroso che arriva spesso e volentieri io le ritrovo anche nelle cartelle cliniche degli anni 40 degli anni 50 dove come vedete ci sono appunto annotati tatuaggi cose molto particolari che oggi farebbero sorridere come il tubercolo di Harwin tutte cosine che hanno a che fare con la pratica che portava diciamo a descrivere nel corpo i segni della diciamo della devianza qui ci sono le lettere per esempio di manicomio che sono molto interessanti per ascoltare la voce degli internati che tra gli interstizi del potere riescono in qualche modo a comunicare qualcosa ora io ho selezionato le cartelle cliniche degli uxoricidi mi occupo sostanzialmente di uxoricidi lo faccio non solo perché per ora percepisco la borsa ma anche perché sostanzialmente vorrei analizzare due elementi che possono emergere bene dalle cartelle cliniche degli uxoricidi uno è diciamo una patologia la patologia di riferimento che è la paranoia che consiste diciamo in un disturbo prevalentemente intellettivo per il quale la personalità subisce una graduale trasformazione nei rapporti con il mondo dando luogo a false convinzioni e deliri sistematizzati in particolar modo io credo sia molto interessante per quanto riguarda gli uxoricidi valutare questa storicità di queste false convinzioni come cambiano nel tempo e come vengono giudicati e poi l'altro elemento che mi piacerebbe analizzare è il punto questo nesso cercare di disarticolare questo nesso tra maschilità maschilità in questo caso e violenza di genere allora io farò una piccola parte in cui passerò in rassegno questi tre elementi e poi farò vedere due cartelle cliniche quindi vi racconterò due storie trovate dal manicomio allora primo elemento è la paranoia io sono partito da questa definizione che mi ha molto colpito perché gli uxoricidi sono quasi tutti medicalizzati con questa diagnosi la paranoia con dirillo di gelosia e Leonardo Bianchi che era un importante psichiatra del tempo dice appunto che il geloso paranoico spesso l'uxoricida viene definito geloso paranoico è un timido geloso o un superbo a cui sfugge la misura del diritto del possesso quindi è molto interessante valutare come l'uxoricida è sostanzialmente soprattutto quello che viene medicalizzato nei manicomi l'uomo al quale sfugge in qualche misura il diritto del possesso della donna in qualche modo quindi io credo la paranoia con dirillo di gelosia si colloca un po' come la patologia che sanziona l'eccedenza cioè quella violenza quel carico di violenza che sul plus di violenza che in qualche modo supera la soglia un'altra definizione che ho voluto mettere appunto perché sarà forse perché sono un fan di Lombroso nel senso meno buono del termine nel caso della paranoia i tanzi e riva che cercano di leggere questa patologia parlano dei fenomeni paranoici come i sei giorni di vita di quel selvaggio incatenato che sonnecchia da lunghi anni in ciascuno di noi quindi sostanzialmente la paranoia è quella come dicevo prima la storicità delle false convinzioni è sostanzialmente l'etichetta che sanziona questo pensiero ataro che va in qualche modo all'indietro con temporalità diverse rispetto alla contemporaneità quindi molto interessante analizzare l'altro punto che analizzo è appunto la mascolinità io ho messo quattro punti sullo maschile che sono emersi dagli studi storici che il professor Bellassai ha sicuramente ho letto i suoi libri quindi li ho ripresi da lì diciamo sostanzialmente quindi ho un debito e la relatività è l'elemento massimo della mascolinità cioè appunto che cambia ci sono più maschilità e cambia col cambiare appunto dei tornantistico dei tornanti storici la relazionalità appunto che sostanzialmente dire cos'è oggi maschio è strettamente collegato che cos'era che cos'è la donna quindi c'è una grande relazione il tema della relazionalità è molto interessante il tema dell'invisibilità come diceva prima il professor Bellassai sostanzialmente il maschio è il genere neutro unico universale e quindi sostanzialmente il maschio non si pensa come genere in qualche modo e poi il tema del potere il tema del potere è sempre presente nella storia diciamo gli studi storici maschile anche qui l'identità di genere maschile viene sempre spesso connessa col tema del potere io però devo dire penso che spesso e volentieri il tema del potere ci mette un po' in difficoltà soprattutto perché si pensa al potere come qualcosa che si possa tenere in qualche modo in mano quando invece nel caso del maschile penso che il potere attraversi in qualche modo i soggetti quindi questo c'è un rischio diciamo di appiattire secondo me gli studi sul maschile ma qui magari sulla discussione ne parleremo su questo concetto di potere perché e poi il quinto punto che non ho inserito ma in scatuità sta riflessione ascoltando il professor per la secolo della crisi che effettivamente ritorna continuamente tanto da dire che una crisi che dura così tanto tempo effettivamente non si può più definire crisi perché lo stesso George Moss che secondo me è un designao degli studi storici da una periodizzazione del maschile partendo appunto utilizzando sempre questa categoria della crisi da un modello di masconilità che parte diciamo dal diciottesimo secolo che è appunto sul modello di Winckel ma virtuoso razionale padrone delle proprie mozioni poi lo fa andare in crisi sostanzialmente alla fine dell'ottocento e poi abbiamo un momento dopo la crisi che si risolve grazie ai regimi autoritari per poi ritornare ancora in crisi la masconilità negli anni sessanta quindi c'è questa crisi che ritorna continuamente così come il tema del potere è sempre presente nella riflessione diciamo di Connell che negli studi diciamo della sociologia è quello che ha preso di petto questo tema e il tema del potere appunto nella definizione della masconilità egemone è molto forte salvo poi effettivamente Connell accoggersi quando fa questa divisione sul maschio diciamo di non trovare in natura sostanzialmente il maschio egemone quindi poi lui utilizza complica il quadro con la categoria della masconilità complice e di quella poi subordinata che però hanno tutti in comune diciamo i dividendi del patriarcato cioè il potere quindi io per quanto riguarda diciamo gli studi sulla masconilità mi sento molto vicino alla definizione di Tosh di John Tosh che appunto considera la masconilità come un'identità sia psichica che sociale psichica perché parte integrante della soggettività di ogni maschio che prende forma nella prima e nella seconda infanzia e sociale perché la masconilità non esiste senza riconoscimento dei pari che a sua volta dipende dalla prestazione della sfera sociale peraltro penso che la masconilità possa essere anche studiata riprendendo le riflessioni metodologiche di Scott che considera appunto il genere diciamo immerso su questa cosa se ne è discusso anche molto nel numero di genesi assicurato dal professor Rizzo e dalla dottoressa Schettini e il genere viene costruito attraverso quattro piani che sono appunto le identità soggettive le istituzioni sociali i modelli normativi e il piano simbolico su questi quattro piani secondo me si può ragionare meglio io credo che possa essere l'approccio giusto e l'altro tema che vorrei studiare appunto e che cerco di studiare è quello della violenza di genere tramite le cartelle cliniche chiaramente le cartelle cliniche quando si è fortunati si trovano appunto negli stralci della gli stralci del processi e quindi sostanzialmente si cerca di vedere come funziona questa soglia di accettabilità della violenza di genere perché io sostanzialmente gli studi storici hanno secondo me consolidato un tema che è quello diciamo di considerare la violenza di genere come un fenomeno che contiene in sé i caratteri della durata e del mutamento quindi se è vero che è sempre esistita la violenza di genere ma è cambiato il modo di diciamo di recepirla dal punto di vista sociale nella cultura giuridica eccetera io credo che questi due caratteri cioè il carattere appunto strutturale di una violenza che è sempre esistita e quello del mutamento quindi valutare quelle che sono le discontinuità è secondo me molto interessante una storiografia in qualche modo dove cercare di tenere seria comunque che è aperta alla complessità deve cercare di tenere questi due temi abbastanza insieme quanto più possibile quindi nel mio caso io ad esempio cerco di valutare le oscillazioni della soglia di accettabilità la soglia di accettabilità sostanzialmente se è vero che la violenza è sempre esistita cambia il modo in cui è stata percepita e questa soglia sostanzialmente oscilla e quindi attraverso anche le voci che certe volte vedremo in una cartella clinica che cerco di rintracciare nella cartella clinica cerco di vedere come cambia questa percezione quindi anche con quali margini di recittimazione la violenza agito nel tempo sono quattro le cose che vorrei fare sul nesso masconilità e violenza di genere e le ho messe qui cercherò di rassumerle la prima è quella di analizzare i discorsi maschili perché io credo sia importante analizzare quello che i maschi dicono quando agiscono in qualche modo fanno violenza e in questo in questo precisamente in realtà quello che vorrei studiare e che delle volte ritrovo nelle cartelle cliniche sono appunto il variare cercare di ricogliere il variare delle strutture discorsive e simboliche che legittimano questa violenza sicuramente il linguaggio dell'onore che è la prima grande struttura simbolica che legittima la violenza di genere non sbaglia Pasolini quando nei comizi d'amore fa dire a un per un agricoltore insomma lo intervista e dice l'agricoltore risponde che in caso di corna di tradimento non basta il divorzio siamo nel 63 in parere non basta il divorzio ma bisogna in qualche modo uccidere la donna comunque lavare l'onore in questo modo quindi la struttura dell'onore è diciamo quella più resiliente quella che esiste di più però in realtà ascoltando le voci di questi maschi che appunto commettono questi uxricidi capita di ritrovare altre strutture discorsive che hanno a che fare con il linguaggio dell'amore sostanzialmente quell'amore malato patologico che oggi ancora si sente la gelosia l'amavo troppo e quindi l'ho uccisa e in qualche modo in qualche cartella clinica degli anni 50 anche se non capita spesso ci sono anche altri linguaggi in qualche modo entra diciamo il tema del noi e quindi si parla di quella diciamo di una sorta di follia amorosa e alcuni maschi appunto parlano delle maschie cosiddette in crisi si lamentano appunto della donna di questa crisi della generale che delle volte nelle cartelle cliniche si può ritrovare un altro elemento importante è quello che cerco ancora una volta di rintracciare è quello della costruzione medica del corpo maschile questo qui nel fascicolo di genesi su mascolità e violenza si è un po' ragionato su questo tema e soprattutto rintracciare questa nozione di impulso refrenabile perché sostanzialmente anche quando capita di leggere il giornale si parla continuamente di questo che capita di tornare al tema del raptus in qualche modo si scrive nel corpo maschile un certo grado di violenza che insita nella natura dell'uomo che quindi appunto per natura biologicamente è portato alla violenza e quindi ricostruire anche questo elemento qui sarebbe molto importante una prospettiva di storia delle emozioni ma qui ci metto un punto interrogativo perché non so la storia delle emozioni è sempre molto complicata almeno a me è sempre complicata però appunto considerare le emozioni come diciamo atti sociali della mascolinità senza diciamo andare atti sociali relazioni della mascolinità senza fare quel corpo al corpo come con le neuroscienze che è molto più che è molto complicato diciamo e poi in generale con la cosiddetta analisi dei contesti della soglia di accettabilità come ho detto prima che è il miglior modo per problematizzare la violenza di genere sicuramente l'approccio che utilizzo questo vorrei dirlo in chiusura di questa prima parte è quello diciamo io direi microstorico non perché sia un fan della microstoria che tra l'altro è una corrente che mi sembra piaciuta però io credo che la microstoria sia il miglior modo per non perdere diciamo il soggetto per non cristallizzare non cristallizzare troppo i soggetti quindi un approccio microstorico che ha a che fare con l'identità soggettive dei maschi ed è bene appunto sentire anche dal punto di vista di discorsi cosa hanno questi maschi da dire sulla violenza di genere ora concludo rapidamente con due storie dal manicomio criminale di Barcellona Pozzo di Gotto sì almeno certifico il fatto che effettivamente sono andato al manicomio come potete facilmente intuire e sono due storie che naturalmente sono una ad Agrigento e una a Palermo e un po' dando l'impressione di come si possono trattare e come si possono utilizzare le cartelle cliniche una è un Agrigento capita ad Agrigento nel 1937 della mattina del 6 novembre quando Giovanni B esplode diversi colpi di riportella contro la moglie Caterina e poco dopo tenta il suicidio ma si procura solo delle ferite alla testa e al mento e viene portato viene tradotto al manicomio criminale dove si aspetta la perizia psichiatrica la perizia psichiatrica quindi nella cartella clinica noi ritroviamo tutti i fili della vicenda che vengono in qualche modo riallacciati e quindi nell'informativa giudiziaria troviamo e scopriamo sostanzialmente che come capita spesso nei casi di un suicidio la storia cioè la violenza di un suicidio è soltanto la punta dell'iceberg di una serie di violenze perpetrate infatti qui vedete la soglia di accettabilità come si può muovere perché la vicina che è interrogata sul caso di Giovanni dice un giorno mentre mi portavo ad acquistare un litro di vino passando davanti alla casa del B di Giovanni appunto di che Caterina piangeva entrai in casa della stessa la vidi legata con una corda assicurata alla mangiatoia come una mula essa nulla mi disse io mi allontanai correndo perché avevo paura che il B fosse in casa il parroco era anche a conoscenza di Generrione si diceva che il B mi attrattasse la moglie a me personalmente nulla mi costa posso solo dire che vidi la signora Palma la madre di Caterina che dinanzi alla porta delle B gli diceva traditore e traditore mi hai rovinato i miei figli il B la afferrò e cominciò a cappestarla ma l'intervento delle persone la cosa non ebbe seguito il B era una persona normale la moglie e la moglie era una donna onesta ed eccessivamente buona questa qui l'idea dell'innocenza della donna c'è quasi sempre c'è questa concettualizzazione diciamo di innocenza di vulnerabilità della donna esiste nelle cartelle che si trova spesso è molto interessante perché per risolvere questi problemi i problemi appunto coniugali le due famiglie di appartenenza della coppia vanno dalla fattucchiera che cerca di risolvere questo malessere e la fattucchiera fa una cosa che sarebbe piaciuta sicuramente a Di Martino perché appunto fa una sorta di da mesi questa qui in Sicilia si chiama cogliere il sole diciamo lucciatura guardai ed esaminai la testa di questo giovane evidentemente dissi che non aveva alcun male preciso anzi che per procedere all'esame posi un piatto sulla testa del giovane e dentro il piatto un bicchiere con del cotone avendo acceso il cotone constatai che non aveva quel giovane alcun colpo di sole dopo di ciò se ne andarono non tornarono più chiaramente la violenza continua e si arriva alla notte finale dove poi abbiamo accaduto questo suicidio questo tentativo di suicidio qui è molto interessante perché si ritira in casa Giovanni e chiama raccolta prima il medico e poi il sagerdote perché appunto questa è la notte tra il 5 e il 6 novembre qui è molto interessante perché troviamo un'interpretazione varia diciamo di quella che poi viene definita malattia mentale prima arriva il medico che lo fa sedere sul letto e procede diciamo all'esame della lingua che trova abbastanza umida e poi dice tutto ciò mi dà la convinzione che il B non fosse un allenato di mente stavo per andarmene poi per accettare meglio voglio approfondire procede all'esame dell'addome riscontrai che la milza era ipertrofica cosicché se fosse un effetto da febbre malarica e lo stesso mi rispose affermativamente ritieni che in qualche certo difende il B avesse dato delle manifestazioni che i parenti sembravano segni di pazia e quindi alla fine lui ritiene il B stano di mente diversa almeno nella nella struttura la visita del sacerdote che gli chiesi il motivo per cui avesse richiesto un'opera mia lo stesso mi rispose che era stato assalito da vertigini da fanno e vedeva i fantasmi essendo talo del B non credetti di procedere alla confessione consigliai al B di venire l'indomani in chiesa per confessarsi ma senza averlo incoraggiato ancora una volta il sacerdote però ci conferma che in precedenza non aveva mai inteso dire che il B avesse dato segno di squilibrio mentale si diceva nel quartiere che il B maltrattava la moglie però mai si disse che era uno squilibrato e qui il tema della storia decitabilità possiamo definirla molto alta insomma alla fine Giovanni va in manico e si fa la perizia psichiatrica la perizia psichiatrica è molto interessante perché da un lato traccia le file della vicenda e appunto con questa con questa la perizia medico-legale si definisce si parla un po' del rione agrigentino e si fa un giudizio diciamo traccia sul tema i vicini di bambini dicono i periti che la vedevano legata alla mangiatoia e piangente scappavano in orriditi si riferiscono a Caterina e questo folle era ancora sopportato non suscitando in nessuno né piede né disposto o che fosse ritenuto pazzo o che fosse ritenuto criminale anche qui tra il pazzo e il criminale abbiamo sempre difficoltà nel cercare di capire se è solo matto o il matto e il criminale a tutti e da tutti arriva nella mente dell'imperige le implorazioni sue perché finissero i martiri ma nessuno affrontava la situazione con quella inconscienza di quelle che gli psichiatri definiscono convivenze i poi volute molto interessante il finale della perizia psichiatrica Giovanni B morirà in manicomio perché gli verrà riscontrata appunto una forma di paranoia con delirio che poi si tramuterà in demenza precoce nelle diagnosi successive e qui è molto interessante perché anche i periti cercano di oggettivare un po' il corpo di Caterina perché ci dicono che nella sdermante cadura africana il B cominciò a vedere la moglie come un infamante bagascia e sì dicono i periti la povera Caterina non aveva attributi di bellezza e possibilità di avvingenti richiami amorosi e poi c'è la trasputazione tipica del maschio che a un certo punto e qui si dice il tema di iscrivere nel corpo maschile effettivamente la violenza e qui si fa proprio questo esperienzo retorico perché si dice la paura solamente la paura del maschio diventava belba che imperociva su di lei e poi il B rimane ora silenzioso frammenti di crine restano sparsi qua e là a tratti si odia un lamento una maledizione come il ringhiale di una bestia la testa o è nascosta sotto le lenzuola immobile muta e manda alla bocca dei sinistri lullati sospiri non più le pezzi la che lo inghiottì questo è il finale Giovanni poi morirà nel manicomio nel 49 ora vi faccio l'ultima storia poi mi taccio ed è un caso molto interessante che ho ritrovato sempre il personale di un giovane sostanzialmente mentre facevo ricerca ho trovato tutte queste carte circa un centinaio con scritto ovunque chirurgia plastica chirurgia plastica plastica facciale eccetera la cosa mi ha ricordato un famoso film con il protagonista Jack Nicholson però effettivamente molto interessante questo ragazzo chi avremo Giuseppe a Palermo palermitano sostanzialmente aveva era probabilmente convinto che la sua che la sua faccia fosse poco mascolina e la sera del 29 novembre del 1939 il maresciallo Coccimilia che è il vicebregatire dei vigili urbani si rega alla casa del noto avvocato l'avvocato R che è il padre di Giuseppe e trova appunto la cameriera finita chiaramente e poi appunto morirà e Giuseppe seduto sul letto sorridente con la pistola fumante sostanzialmente quindi sostanzialmente Giuseppe viene portato in manicomio e lo ritrovo lì a Barcellona Pozzoni e lo stesso padre che ci racconta la sua storia e dice che il figlio Giuseppe è stato affetto da rinazione mentale per la tua vita di cinque anni curato naturalmente in casa con demenza con allucidazione e con tendenza alla nevastenia sessuale in quanto credeva di avere il volto femminio in conseguenza della malattia divenne un recluso volontario evitando qualunque contatto sia in famiglia che verso i parenti e i ragazzi se qualche volta si decideva di fare le nostre preghiere sulle licitazioni di sanitari speciali ad uscire lo faceva truccandosi mettendosi gli occhiali da sole un tampone di mammaggio in un occhio e un dei tamponi dentro le cavità nasale questo è molto interessante perché Giuseppe sostanzialmente si chiude in casa e dice più volte al padre di voler fare una plastica facciale per ridurre questo gap perché alla del volto lui dice troppo poco mascolino o troppo femminio femminile dice femminio e femminile quindi il padre che questo noto avvocato cerca di risolvere questo problema mandandolo in qualche modo da alcuni medici e quindi lo manda dal dottor Raberi una visita privata e il dottor Raberi rimane molto impressionato dal fatto perché Giuseppe gli chiede mi chiese qui dalla perizia medico dall'informativa giudiziaria lo ritroviamo mi chiese se non gli sembrava che egli avesse un volto femminio per il quale i compagni lo burlavano nonostante io cercassi di persuaderlo del contrario egli insistette verso di me perché gli facessi un'operazione al viso per deturpagli nel senso per renderlo più maschio compresi di avere a che fare con un uomo normale e per toglierlo di dosso gli disse che era necessaria l'autorizzazione del padre in seguito venne più volte l'avvocato R pregandoti di andare in casa sua per persuadere il figlio perché il suo molto era normale ci andai e non otteni nulla prescrissa Giuseppe delle denture per rendere il viso più scuro lascio a voi l'idea effettivamente c'è un nesso a questo punto molto forte tra maschilità e viso più scuro almeno per quanto riguarda il dottor Raberi quindi poi a certo punto Giuseppe cercano in qualche modo di risolvere questo deficit di mascolinità e naturalmente gli consigliano al padre di stradarlo verso la carriera militare naturalmente Giuseppe dopo tre giorni tornerà indietro mandando una lettera al fratello in cui appunto dirà che la vita militare non fa per lui e sostanzialmente poi si arriva diciamo alla perizia medico-legale che ci racconta appunto la storia di Giuseppe che fin da piccolo soffriva di incumi e spaventi aveva paura di dormire da solo quindi già da piccolo non era forse un maschio tradizionale e quasi ogni notte si alzava dal letto per rifugiarsi nella stanza dei genitori a volte si adeggiava nella poltrona poi passava tutta la notte a volte si draiava sotto il letto poi Fioverari si rivelò in seguito evidente di aggressivo e da principio in famiglia non vi fecero gran caso e nessuno pensava che ci presentava all'inizio della malattia credettore invece si trattasse di cattiveria e di scuoleria più grandetto cercherano di farlo occupare presso la sattoria comunale di Palermo senza però ottenere nulla perché dopo pochi giorni volle ritornare in famiglia dirigendo stanchezza qui a un certo punto scrive al fratello e parla della sua fissazione è molto interessante perché lui parla di questo problema diciamo sulla sua scarsa masconità come una fissazione e dice se fissazione non passa e questo lo ha detto un bravo professore e di questo da papà se non è fissazione ho ragione io dunque porca miseria non vi è che unica via l'unica la sola l'efficace è la plastica Giuseppe naturalmente poi questa è la parte più interessante viene diagnosticata una forma di paranoia con delirio a sfondo sessuale e per tutto il periodo del manicomio lui fa questi riferimenti continua al fatto di essere troppo poco maschio e quindi spiega per questo il fatto che aveva tentato in qualche modo di avere un rapporto sessuale con la camarilla di casa ma riuscito naturalmente per questo appunto aveva sparato questa povera domestica è molto interessante e finisco qui il fatto che per colmare il deficit di masconilità lui faccia più volte riferimento all'idea di possedere in qualche modo fisicamente una donna ma è molto interessante anche l'eperizia medico-legale perché si ritrovano nell'eperizia medico-legale due temi molto presenti che mi hanno fatto propendere per una forma di omosessualità latente non diagnosticata ma non si possono fare mai le perizie sono sempre arbitrarie non si possono fare naturalmente a priori però ci sono due elementi che tornano sempre vedete qui risposte e domande lui dice penso a tante cose non posso dormire penso a tante cose ho tante visioni anzi da un po' di giorni vedevo il diavolo non sono sciocchezze voi ridete non sono sciocchezze il pedito gli chiede non ridiamo affatto ma racconta chi ti parlava sentivo parlare in un orecchio mi diceva tante cose sentite dunque delle voci di donna queste voci di donna che continuano nella sua testa sì poi altre cose che non penso che io devo andare a casa tante volte sentivo la voce di fa dei nomi che non ho messo Giovanna la cameriera un'altra si chiama Dora Antonietta Giovanna mi veniva a parlare vicino all'orecchio e poi sento anche mio padre che mi dice tante porcherie mi dice pazzo pazzo sono due elementi che tornano sempre nelle parole di Giuseppe chiudo una è questa voglia di dimostrare questa mascolinità che pesa su di lui che potrebbe essere probabilmente queste voci di donna che continuano a presentarsi e poi c'è questa voce del padre che probabilmente rappresenta le istanze borghesi della vita che avevano desiderato per lui una vita borghese magari una professione legale eccetera questo delirio continua per una serie di anni diciamo questi racconti fino a quando poi questo è proprio vero che è il manicomio di classe grazie a delle aderenze del padre che ho trovato una lettera poi Giuseppe sostanzialmente uscirà non so se risolvendo quel tema del deficit di masconità però riuscirà a poi uscire dal manicomio e ogni tanto dirà alla fine in una lettera appunto di sentire soltanto delle volte queste voci di donna io ho optato per questa idea di un'omosessualità latente però appunto non si possono fare le perizie esposte concludo dicendo che su quanto riguarda il tema della valenza di genere io che nel suo masconità violenza crisi io penso che in qualche modo ci sia diciamo questo dibattito natura-cultura sostanzialmente sul maschio violento eccetera sia mal posto io però credo che ci sia un fenomeno che sia in qualche modo strutturale ma credo anche che ci sia un grumo diciamo di pensieri comune una cosa torbida comune a tutti gli uomini che porta sostanzialmente gli uomini senza differenze di classe sociale di genere eccetera insomma a portare un surplus di violenza nel scaricare un surplus di violenza quello che sono le relazioni con l'altro sesso da questo punto di vista quindi io credo che utilizzare il discorso storico in maniera critica sia molto interessante sia molto importante per evitare banalizzazioni come quelle che sono sentite delle volte sui canali mediaset sui maschi che fanno violenza di genere grazie per l'ascolto allora grazie per l'ascolto però vi devo dire anche che io avrei finito quindi dovrei passare la parola al professor Rizzo e poi faremo le domande se possibile grazie grazie anche per questa storia di Giuseppe R che mi ha che mi ha colpito moltissimo lo trovo lo trovo un caso straordinario e molto e molto affascinante forse cioè ci vorrebbe la penna di Oliver Sacks per scrivere un un libro strepitoso sulla maschilità ma sono sicuro che la penna di un giovane storico nella sua tesi di dottorato lo farà al meglio e grazie per avermi invitato maschilità e storia e sessualità più me ne occupo e meno e meno ne so e meno ne capisco è un oggetto molto molto sfuggente quello che vorrei allora intanto sessualità storia della sessualità e storia di genere mi sembra che si siano incrociati meno di quanto si possa immaginare di quanto ci si possa aspettare dall'esterno chi non si occupa di queste cose potrebbe immaginare che c'è un'ampia storiografia di genere che parla di sessualità un po' la storia delle donne si è occupata piuttosto di altro perché dal momento che proprio in ragione del corpo e della riduzione della donna a corpo a natura a biologia si trattava di denaturalizzare e quindi studiare la costruzione storico-sociale economica cioè la storia delle donne è andata in altre direzioni per molti anni per gli storici della maschilità vale quello che diceva Sortino prima in cui mi sono molto riconosciuto a proposito dell'enfasi posta sul potere quando gli storici si sono occupati di maschilità sullo sfondo di una costruzione asimmetrica di lungo periodo tra uomini e donne il potere esercitato ha fatto un po' da criterio di classificazione maschilità egemone maschilità subordinate tipo e controtipo e così via e si è arrivati semmai a una moltiplicazione di modelli di riferimento di maschilità multiple eccetera ma su questo torno alla fine dal punto di vista della storia della sessualità invece ci si è occupati molto di devianza questo anche per una ragione di fonti perché si tratta di un filone di studi che ha che si è sviluppato nell'alveo della storia sociale andando negli archivi e utilizzando per lo più fonti giudiziari tutto il filone degli studi sul disciplinamento e poi sulla criminalità cioè è la sessualità che ha nella sessualità eccentrica o la sessualità repressa o disciplinata che è venuta al centro e per questo io posso dare un contributo invece su un percorso di tipo diverso che riguarda piuttosto la sessualità legittima legittimata anzi dovuta e consacrata e cioè la sessualità matrimoniale perché è con riferimento al matrimonio che noi abbiamo una produzione di discorsi sulla sessualità maschile in modo particolare maschile a partire almeno dagli anni successivi al concilio di Trento cioè i grandi trattati sul matrimonio che escono in Europa e che hanno circolazione europea negli anni successivi al concilio di Trento perché al concilio di Trento perché lì hanno il problema di affermare intanto la natura sacramentale del matrimonio di contro ai protestanti e quindi i teologi morali lo mettono lo mettono al centro a partire da questa trattatistica che è teologica ma è anche medico legale perché il matrimonio per essere valido come sacramento richiede due caratteristiche affinché le persone siano legittimamente capaci di sposarsi devono essere intanto un uomo e una donna il che non è così scontato perché questo dà luogo ha una quantità di dibattiti sul corpo degli emafroditi perché ha un effetto legale concreto di fronte a uno dei due coniugi che presenta un'incertezza di identità sessuale la validità del matrimonio dipende dal fatto che un medico accerti la prevalenza dell'essere l'un sesso o l'altro perché un matrimonio tra persone dello stesso sesso non risponderebbe al criterio di legittimità e poi dovrebbero essere sessualmente capaci questo è molto importante affinché il sacramento del matrimonio contratto sia valido il matrimonio deve essere consumabile cioè il corpo matrimoniabile lo chiamo io è un po' un neologismo credo il corpo matrimoniabile è un corpo sessualmente capace questo perché il matrimonio a tre momenti viene iniziato dicono loro con il fidanzamento la promessa di matrimonio è rato al momento della celebrazione ma è soltanto con la consumazione che il sacramento si perfeziona altrimenti se non è consumato non c'è bisogno di annullarlo c'è la dispensa per matrimonio orato e non consumato l'annullamento è un'altra cosa perché rinvia alla incapacità originaria a un vizio originario ora il fatto che il matrimonio dipenda dalla capacità sessuale stimola una riflessione estensiva enorme di decine decine di monografie tra il cinquecento e il settecento ma che poi vengono utilizzate almeno da parte dei tribunali ecclesiastici come la sacra rota fino all'età contemporanea che si occupano della capacità tra le altre cose si occupano della capacità sessuale dei coniugi ora la capacità maschile la capacità sessuale maschile appare dai trattati che io avevo studiato dichiaratamente un rebus è un rebus molto intricato e molto ansiogeno perché? perché sullo sfondo c'è una concezione del corpo legata alla medicina galeno-ippocratica i corpi sono un mix di elementi caldo freddo secco umido questi elementi si combinano diversamente vuoi per natura alla nascita vuoi risente la combinazione di questi elementi risente di fattori ambientali di cose che possono capitare nel corso della vita quindi di una malattia anche per natura si nasce con temperamenti diversi c'è una pluralità di corpi quanto alla maschilità e diciamo che quello che a fare da criterio discriminatore è la quantità di calore nativo che si possiede ci sono i maschi portatori di un temperamento sanguigno è l'epitome l'iperbole della virilità non solo della maschilità il temperamento sanguigno è quello di uomini dotati di un così forte calore che sono hanno un apparato muscolare più sviluppato sono molto pelosi hanno la voce profonda ma sono inclini ad alcuni mestieri piuttosto che ad altri il temperamento del soldato e per tutti è il dio marte il riferimento principale ma anche il segno zodiacale i segni zodiacali che stanno sotto marte c'è un coacervo di elementi che concorrono a descrivere questo modello estremo all'estremo opposto di un continuum ci sono i frigidi l'uomo frigido è un uomo che può nascere con un calore vitale così minimo da incarnare tutti i segni di una scarsa virilità anzi segni di femminilità il frigido da cosa si riconosce in una circolarità di ragionamento si riconosce da e quei segni sono indizi di voce flebile portamento incerto pochi peli debole sviluppo muscolare inclinazioni anche caratteriali per questa ragione ad altri mestieri ora però frigidi si può nascere ma si può anche diventare si può diventare nell'età molto avanzata per vecchiaia in pratica ma si può diventare frigidi o il calore il calore vitale di un maschio può diminuire per molte ragioni anche fare anche un'infreddatura può causare una perdita definitiva a volte la perdita è invece momentanea e si può recuperare ora ve l'ho fatta molto molto semplice risparmiandovi molti aspetti perché quello che ci interessa è che le cause di una incapacità a consumare il matrimonio possono essere infinite il perito medico legale deve stabilire se questa incapacità è permanente o meno e quindi deve valutare il corpo maschile rispetto alla sua capacità sessuale da qui una produzione medica enorme sul tema si tratta di creare si tratta vengono fatte tassonomie molto dettagliate ma tutt'altro che certe perché perché è un corpo permeabile è un corpo esposto costantemente alla perdita di calore vitale e nelle allora diciamo chi inaugura la medicina legale occidentale non soltanto su questo tema proprio la inaugura tu cura è un medico che è l'archiatra pontificio Paolo Zacchia scrive un trattato straordinario le sue questioni medico-legali in cui dà conto di decine e decine di casi di perizie che lui ha effettuato ma anche di visite non all'interno di un procedimento giudiziario ma di persone che sono andate da lui ebbene quando si tratta di capacità sessuale sono mi pare 45 casi che lui racconta in dettaglio con uno stile tra l'altro molto berlante è un latino da grande umanista il suo è un uomo molto spiritoso e che scherza molto anche su tutto questo e allora dicevo dei 45 casi di studio che lui presenta uno solo riguarda una donna 44 riguardano la capacità maschile poi ci torno tra poco sul perché c'è una sola donna a fronte di 44 uomini e molti sono alcuni almeno sono aristocratici romani che alla vigilia delle nozze sono andati da lui a chiedergli io mi sto per sposare la mia famiglia ha bisogno di un erede sono i primogeniti di casate illustri che devono sposarsi per dare un erede alla famiglia ma ma ce la farò io ho dei dubbi ho avuto la sifilide non è che per effetto della sifilide adesso il mio pene è troppo corto ce la farò a penetrare oppure ultimamente mi sento un po' fiacco allora c'è tutti questi casi danno danno conto di un interrogarsi attorno alla propria capacità a una certa tra virgolette nevrotizzazione della questione della capacità sessuale con buona pace di chi ritiene che il Viagra così risponda a un bisogno nuovo cioè una forte drammatizzazione della capacità sessuale a partire dalla pervasività e universalità di un'istituzione come quella matrimoniale che si fonda nei paesi cattolici almeno sulla consumazione del matrimonio dicevo capacità femminile la capacità femminile è data sempre per scontata è data sempre per scontata è rarissimo dicono i medici che una donna non possa accogliere l'uomo che la penetra la ricettività della donna è indipendente anche dal desiderio a differenza del corpo maschile che invece deve fare i conti non soltanto con cause legate al temperamento e agli incerti che possono capitare in seguito alla perdita di calore nativo del calore corporeo ma anche al desiderio questo rende ancora più intricato il rebus di questa erezione maschile benedetta perché ora se mi scusate la parentesi io ho un po' studiato la campagna di qualche anno fa senza pubblicare nulla perché faccio così studio quando capisco mi scoccio poi di scrivere ma la grande campagna promossa dalle società di sessuologia italiane che il cui il cui tema era basta scuse forse i meno giovani forse voi eravate adolescenti voi dottorandi o più grandi era pervasiva era ovunque questi spot e sulla carta stampata basta scuse avete un problema fatevi vedere da un medico seguendo sulle tracce di questo la campagna era finanziata dalla Pfizer e dal produttore del Chalice che non mi ricordo adesso quale sia che sono le due principali e rimandava a pagine delle società di sessuologia che dicevano guardate è un casino le cause possono essere così tante che vi conviene prendere un Chalice o un Viagra perché nella peggiore dell'ipotesi ha un effetto placebo se ha un effetto invece se avete un problema fisico funziona ma se non avete un problema fisico ma mentale pensare che la pasticca ve lo risolve eccetera eccetera per cui è stata un'operazione spaventosa e molto interessante che forse andrebbe andrebbe effettivamente discussa va bene però chiusa chiusa parentesi perché questo semmai se vi interessa ci torniamo dopo ora a proposito di una cosa però la voglio dire rispetto a questi trattati di cui vi stavo veramente parlando e cioè che l'idea di una pluralità di corpi maschili è tale che quando in ambito cattolico dopo la riforma protestante che come sapete rifiuta il celibato ecclesiastico fa del modello di matrimonio eterosessuale il modello normativo anche per i pastori non solo ma proprio sposandosi i pastori che da capofamiglia daranno un modello cristiano alla loro comunità i cattolici hanno il problema di dire che il matrimonio è un sacramento istituito da Dio e al tempo stesso che il celibato è una cosa meravigliosa allora si chiedono e diciamo l'accusa protestante è importante i protestanti dicono il celibato è contro natura la natura umana è una natura sessuale lo dico in termini anachronistici questo istinto è qualcosa che Dio ha dato agli uomini per cui dicono il celibato e contro natura cosa dicono i geniali teologi cattolici che la natura non rende tutti uguali perché la natura fa le cose diciamo non fa nulla che non sia necessario per la riproduzione della specie non serve che tutti si riproducano non serve che tutti quindi si sposino e quindi per natura ci sono alcuni uomini portati al matrimonio altri uomini portati al celibato allo studio a una vita di contemplazione temperamenti meno sanguigni sono più portati alla contemplazione di Dio non hanno questa questa pulsione questa irruenza e questa aggressività e quindi questo legittima una maschilità del tutto alternativa che non è subordinata è diversa alla radice rispetto a quella destinata al matrimonio o disposta al combattimento e alla e alla virilità questo a proposito di quanto il discorso sulla su una strutturazione gerarchica delle maschilità sia sia un discorso molto complesso e molto problematico naturalmente la virilità di cui parla Sandro è il modello è un significante è un significato politico al tempo stesso tra 8 e 900 ma siamo sicuri che sia l'unico modello esistente siamo sicuri che sia l'unico modello legittimo in quel momento e che tutti gli altri siano subordinati un legittimità politica non è legittimità to cura in questo c'è qualcosa una frase dell'introduzione di mosse in cui mostra che lui se ne rende conto e si giustifica per la scelta che fa di concentrarsi sulla virilità lui dice naturalmente coesistevano nelle società tardottocentesche altri modelli a me interessa questo per la portata politica però c'erano anche le maschilità decadenti e beh i poeti i poeti romantici i dendi di fine secolo sono dei fighi sono soggetti super cool agli occhi di un bel pezzo di una generazione intera allora la loro legittimità anche patriarcale potremmo dire e il loro ruolo maschile non si fonda sulla virilità si fonda su qualcos'altro questo perché non sono sicuro credo che l'attacco alla virilità e l'attacco al virilismo basti a smontare il patriarcato credo che non ci sia una coincidenza e una identificazione tra le due cose in certi momenti può essere la fragilità maschile il valore o addirittura la sensibilità maschile il valore che lo eleva va bene anche su questo però semmai torniamo dopo perché perché poi forse alla fine potrei addirittura dimostrarvi che non sono fuori tema rispetto alla crisi il principale teologo del Seicento sul matrimonio è uno spagnolo si chiama Sanchez e che utilizza un'espressione molto affascinante nell'atto coniugale vi risparmio il latino nell'atto coniugale quindi nell'atto sessuale l'uomo svolge una parte più nobile infatti è agente è attivo qui sono categorie e dicotomie aristoteliche attivo passivo l'attivo è più nobile del passivo in natura e quindi nell'atto coniugale l'uomo assolve a questa parte più nobile e la donna alla meno nobile essendo passiva allo stesso modo Sanchez stabilisce una omologia allo stesso modo nella vita domestica ma lui dice nella dispensazione domestica nel menage diremmo noi in italiano che non è italiano nel menage domestico l'uomo è il capo caput è alla testa e governa usa il verbo gubernare dell'atto di governo di amministrazione e la moglie invece viene governata tra i due piani stabilisce una corrispondenza cioè l'atto coniugale l'atto sessuale tra un uomo e una donna riproduce e riflette contiene in se stesso l'ordine della differenza sessuale ma anche l'ordine sociale e politico di cui la coppia coniugale è fondamento naturale ora se siccome il debito coniugale è dovere è dovere dei coniugi perché si parla di debito perché si ha un dovere nel matrimonio sacramentale si ha il dovere di restituire all'altro il nostro stesso corpo quando ce lo chiede con il matrimonio il mio corpo diventa proprietà dell'altro quando per questo vuole fare l'amore con me sta rivendicando un diritto e io devo è in credito del mio corpo lo possiede e quindi io sono in debito del mio corpo per quello si parla di debito coniugale ora per essere quindi mantenere il proprio corpo in grado di restituire questo debito è un dovere se io metto a repentaglio la mia integrità fisica faccio sì che quando mia moglie o mio marito chiederà ciò che gli appartiene io non sarò in grado di farlo e commetterò peccato mortale questo apre ora pensate a tutti questi discorsi che transitano dai trattati di teologia morale ai manuali per confessori filtrati volgarizzati semplificati la confessione è un altro sacramento che diventa pervasivo ed è come Foucault aveva giustamente sottolineato Foucault diceva la confession no il cattolicesimo ha fatto dell'uomo occidentale una bestia la confessione e questo tema della confessione che comporta l'auto esaminarsi l'auto indagarsi riflettere su cosa si è provato esattamente per stabilire se si è commesso peccato è un sacramento in buona parte femminile quindi voi pensate che su questo tema del debito coniugale data la pervasività della dimensione del peccato rispetto al sesso quanto le mogli pongano quesiti ai confessori mio marito mi cerca troppo faccio peccato mio marito non mi cerca mi posso offrire io glielo posso chiedere io oppure è una cosa che è ora entrambi i coniugi devono mantenere il proprio corpo per cui gli uomini devono evitare di esaurirsi con altre donne perché quando poi arrivano a casa devono essere almeno in grado di restituire il debito perché restituire il debito è anche un atto di carità quando l'altro ci desidera se noi non restituiamo non solo commettiamo un'ingiustizia perché gli appartiene questo diritto e noi violiamo non facciamo quello che è giusto ma giusto nel senso di dare a Cesare quel che è di Cesare è proprio la definizione somma di giustizia dare a ciascuno ciò che è suo non solo facciamo ingiustizia ma possiamo indurlo a peccare e questo vale naturalmente soprattutto per le mogli rispetto ai mariti se quello va bisogna sedare bisogna soddisfare l'istinto sessuale di un marito affinché lui non cerchi altrove commettendo così peccato mortale quindi è un dovere di carità verso l'anima anche del marito evitare che commetta peccato al di fuori del matrimonio le donne come dicevo sono sempre capaci quindi non c'è pericolo che non siano in grado di farlo la loro responsabilità verso il proprio corpo è però di tipo diverso e su questo Zacchia i medici dopo di lui e persino i confessori e questo in alcuni teologi anche pre-tridentini hanno una responsabilità quello di essere desiderabili quello di suscitare il desiderio proprio perché il meccanismo dell'erezione maschile risponde a un desiderio c'è qui tutto un discorso sulla fisiologia del desiderio che ci interessa meno ma cosa devono fare le donne le donne devono rendere devono essere belle devono curarsi ma devono anche essere dolci suadenti amabili benevolenti sto facendo riferimento ad aggettivi specifici che usa Zacchia dipingendo il quadretto che suscita il desiderio maschile quali sono le modalità di porsi che tipo di performance è tenuta una moglie a fare come responsabilità verso il marito perché altrimenti lui non la desidera e peccato mortale lo commette la moglie non deve neanche la moglie suscitare soggezione al marito non deve mettergli paura deve essere davvero molto morbida deve riconoscerlo deve riconoscerlo come dominus qui Zacchia che è stato studiato anche da questo punto di vista c'è una bellissima tesi dottorato poi pubblicata discussa all'università pontificia gregoriana di Roma sulla sulla trattazione dell'impotenza da parte di Zacchia e lui scopre tra virgolette che questo uomo agenz l'uomo attivo che assolve alla parte più nobile ha bisogno del riconoscimento e della complicità femminile altrimenti il giocattolo si rompe ma il giocattolo anzitutto del rapporto sessuale Zacchia parla di animus che anche in italiano attinge a quel campo semantico del no è forza d'animo non perdersi d'animo affinché l'uomo sia capace di avere un rapporto sessuale serve animus e questo animus è legato al riconoscimento femminile se la moglie gli incute soggezione o paura suspenditul cum animo coitus insieme all'animo il merito si perde d'animo e insieme all'animo suspenditur il coito e lui dice con grande ironia ci sono alcune parti credetemi davvero divertenti capisco di sembrare più nerd di quanto non sia a entusiasmarmi per questo ma a volte si scoppia a ridere ad esempio dice che il membro virile intermortum languishit intermortum è proprio tramortito letteralmente intermortum è tramortito proprio sembra lì ma c'è qualcosa che la moglie dice fa di sbagliato che rompe l'incantesimo ora capite quanta quanta ansia quanta ansia e quanta intanto è molto importante che la capacità femminile sia definita in termini di capacità maschile o meglio che la capacità maschile ricada sotto forma di responsabilità sui comportamenti e sulla performance femminile e c'è un i teologi parlavano sempre della sessualità maschile nella sua incertezza nella sua problematicità nella sua misteriosità che tutti quanti sperimentiamo nessuno è esente dalla dalla dal dubbio rispetto alla propria capacità i teologi ne parlavano come di una punizione divina per effetto della cacciata dal paradiso appunto la cacciata dal paradiso in seguito al peccato originale comporta in questa caduta nel tempo direbbe Choranne in questa caduta nella storia non c'è soltanto tu partorirai con dolore che viene detto alle donne ma c'è la punizione divina all'uomo che è costretto a vivere a fare esperienza sul proprio corpo di quella disubbidienza che ha avuto verso Dio il sesso maschile nel senso di pene organo maschile è disubbidiente per natura si fa i fatti suoi non è sottoposto al controllo razionale dell'uomo e questo è un elemento di grande fragilità ma è una fragilità che a volte come dicevo è legata a una natura una natura frigida comporta totale impotenza altre volte può essere contestuale o momentanea legata a fattori accidentali uno per un periodo non ce la fa poi gli torna la capacità di avere un rapporto sessuale ma è una fragilità come dicevo che si riverbera sull'altro sesso come incapacità femminile a suscitare il desiderio in altri termini potremmo dire con un termine così molto post 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 era un dispositivo cioè questa fragilità finisce per essere un dispositivo attorno al quale ruota una costruzione per questo anche per questo credo che come diceva giustamente Sandro i teorici della crisi o che non sono nemmeno teorici perché è piuttosto un common sense cui si attinge noi però come storici ne vediamo come storici cogliamo il significato periodizzante che assume rispetto alla lettura del passato una maschilità granitica non è mai esistita la maschilità tutta ad un pezzo quella maschilità sicura di sé è fondata sulla certezza del proprio ruolo quella maschilità egemone che incarna i segni del dominio maschile come immagina anche Bordieu chi si occupa di maschilità conoscerà questo libro di Pierre Bordieu che si intitola per l'appunto il dominio maschile che che racconta la continuità e la pervasività ancora nelle società euro-mediterranee di un modello dicotomico che assegna sul piano sul piano simbolico che assegna al maschile e al femminile individuano il maschile e il femminile due poli rigidamente opposti ora io credo che le cose siano più complesse di così proprio sul piano delle rappresentazioni non è e con buona pace di Lacan e del fallo significante di qualsiasi cosa anche se naturalmente Lacan poi descrive una maschilità perennemente sottoposta alla prova e da confermare eccetera eccetera allora per questo penso che lo stereotipo del maschile sia poco cioè il maschile come forte razionale pubblico culturale contrapposto a femminile debole irrazionale privato naturale non ci porta molto lontano a capire la maschilità neanche sul terreno delle rappresentazioni perché forza e fragilità operano insieme nel definire il maschile e identificare o classificare il maschile attraverso il potere esercitato rischia di reificare le identità di immaginarle un po' come come un dato come un dasein che che sta lì considerando le prescritte rispetto alle pratiche e da questo punto di vista lo stereotipo della virilità per come lo usa Mosse Sandro evidentemente fa un grosso passo avanti nella sua messa a punto della facendo una storia facendo una storia della del costrutto retorico e delle sue funzionalità però il rischio di uno slittamento tra stereotipi e pratiche e l'idea che poi alla fine gli stereotipi agiscano in quanto vengono adottati e incarnati questo slittamento è sempre è sempre un po' inagguato e per questo anche immaginare una pluralità di modelli maschili basata sulla distribuzione del potere come poi Connell lo accennava Andrea Sortino prima è costretta a fare perché dice c'è una maschilità egemone che incarna tutti i valori riconosciuti dal patriarcato in un dato contesto come egemoni naturalmente i termini di questa maschilità egemone cambiano nel tempo però c'è sempre un modello egemone rispetto al quale altri sono subordinati siccome è una sociologa quando va a studiare concretamente tutti i suoi soggetti 20 30 40 50 interviste che fa deve dire beh in realtà la maschilità egemone non la incarna nessuno e c'è una pluralità di forme di complicità ma una pluralità di forme di complicità così varia che si risponde lungo un continuum in cui poi anche la anche la maschilità subordinata per eccellenza nella stereografia e cioè l'omosessualità andrebbe molto molto complicata e e anche per questo in definitiva sono assolutamente d'accordo con quello che diceva Sandro la crisi è piuttosto un costrutto ideologico che è una categoria che descrive la la realtà è un costrutto ideologico che ci interessa rispetto agli usi che se ne fanno che cosa sta facendo che tipo di atto di azione culturale politica e sociale anche sta facendo chi rinvia a a un certo a un certo stereotipo ma ma siamo sicuri che allora quanti minuti ho forse li ho già finiti non ho guardato l'orologio due minuti ok allora una delle cose che non ho capito studiando il genere da qualche anno e che non ho capito perché forse sbagliavo a volerla capire e sono le periodizzazioni particolarmente nette si procede piuttosto per per introduzione di nuovi costrutti culturali che per il superamento piuttosto che per il superamento definitivo di altri questo fa sì che in ogni momento coesistano temporalità storiche diverse che riguardano soggetti diversi all'intreccio di altre variabili naturalmente sociali razziali di periodo storico ma anche all'interno della stessa persona è questo che rende il genere un gran casino perché essere partiamo da questo che essere maschi non significa per nessun maschio è la stessa cosa nell'arco della giornata e in tutte le relazioni e interazioni sociali che ha non è una identità definibile sulla base di una lista chiusa valida H24 cioè non solo cambia nel corso della vita ma cambia nell'arco della stessa giornata e a seconda dei contesti per cui io arrivo a pensare che l'oggetto quello che davvero possiamo mettere a fuoco e sbatterci scusate l'eleganza dell'espressione per indagare è la complessità di un contesto socio-relazionale ed economico molto preciso sono convinto che nessun contesto possiamo capirlo senza vedere anche quali codici modelli e significati della maschilità sono in gioco per cui alla fine sono arrivato alla conclusione che prendere la maschilità di petto ma come anche ecco la storia delle donne in questo non si è incartata allo stesso modo non ha preso di petto la femminilità o i modelli di femminilità prendere di petto la maschilità rischia di portarci in un così in un rebus di metterci davanti a un rebus non solo difficile da sciogliere ma forse poco poco peròfico spero di avervi messi mi ho messo davvero molti dubbi e spero di averlo fatto almeno con un minimo di chiarezza che la mia stanchezza consente e mi taccio grazie professore sicuramente ci ha messo molti dubbi che si uniscono al tema che è la crisi del maschile quindi lei ha creato veramente un gran polverone e dobbiamo uscire da questa cosa qua insomma ora io intanto vi porto i saluti della professoressa fino a che deve andare a lezione a lezione quindi vi saluto saluto a tutti e penso ci sia un po' spazio un bel po' di spazio per fare le domande che sono sempre cosa ben accetta quindi se qualcuno ha la voglia di dare la manina e dire qualcosina sarebbe gratuito insomma l'audio monopoli che lo so chi è perché è un dottorando dell'università di Padova e credo si occupi di pornografia in Italia liberale buongiorno a tutti come diceva Andrea mi occupo di fotografia pornografica nello specifico delle origini dal 1839 diciamo fino al primo ventennio del novecento diciamo che abbiamo sono stati insomma tirati in ballo molti moltissimi temi e vorrei cercare insomma di fare una domanda senza scadere una specie di intervento mi piacerebbe diciamo prendere un po' trasversalmente alcuni dei temi che sono stati tirati fuori insomma sia dal professor Bellassai che dal professor Rizzo e e cioè appunto la questione della crisi del maschile a partire dalla quale mi verrebbe ecco da chiedermi c'è davvero una crisi del maschile questa questa domanda ecco emerge da due riflessioni la prima insomma quella che ha tirato fuori poco fa il professor Rizzo ovvero del fatto che esiste ecco una pluralità se vogliamo di maschilità che che non hanno sempre il virilismo diciamo come centro di configurazione o di identità e la crisi diciamo del maschile come un'interpretazione se vogliamo ideologica riprendendo invece alcuni dei punti tirati in ballo ecco dal professor Bellassai mi viene anche in mente appunto come sostanzialmente si parla di maschilità mascolinità di ecco costruzione di un'identità in senso di diciamo all'interno della tematica del potere cioè come effettivamente il maschile abbia configurato dei ruoli delle posizioni di potere e come diciamo la messa in discussione di queste posizioni di poteri identificati in un'identità di genere venga poi interpretata come femminilizzazione a me viene in mente diciamo una una specie di prospettiva se vogliamo al contrario che sostengono diciamo anche alcuni movimenti femministi internazionali mi viene in mente appunto non una di meno che hanno diciamo come base interpretativa anche il marxismo per cui di fronte a una costruzione diciamo patriarcale in cui il maschile è diciamo il genere che ha configurato e anche in qualche modo creato costruito le posizioni di potere il femminismo liberale odierno non vede altro che un empowerment ecco della posizione femminile per cui una sostituzione del genere all'interno di ruoli costruiti diciamo in senso maschile talvolta mascolino allora se effettivamente questo processo diciamo al giorno d'oggi può essere riconosciuto e può essere in qualche modo preso come vero cioè se attualmente ecco la crisi del maschile non è altro che un processo di sostituzione di questi ruoli da un genere maschile a uno femminile in realtà siamo realmente parlando di una crisi del maschile in sé cioè mi spiego meglio se queste posizioni di potere create appunto da categorie di mascolinità e maschile sono adesso occupate da ruoli femminili si parla davvero di crisi o è semplicemente come dire una sostituzione di genere alla fine diciamo se vogliamo riprendere anche un po' appunto il linguaggio utilizzato per spiegare questo processo da movimenti appunto come uno di meno non si tratta altro che sostituire cambiare i ruoli di chi o meglio le identità di chi gioca il ruolo di oppresso oppressori allora in realtà il maschile è in crisi o semplicemente sono gli attori che stanno cambiando e che portano avanti questo modello sociale allora io direi di fare così o se siete d'accordo anche voi di rispondere alle domande e poi ne prendiamo un'altra perché c'è una manina alzata di Gaia Manetti quindi rispondete magari si risponde magari a queste e poi ne facciamo altre va bene vai Sandro è più è più roba tua va bene grazie ma allora no interessante Claudio Monopoli questa questione che pone perché in effetti poi una cosa un po' non dico buffa ma curiosa è che questa contrapposizione tra femminismo trans femminismo di oggi contro un certo femminismo liberale rispetto appunto a mettere in discussione l'intero paesaggio oppure semplicemente fare più spazio a donne senza mettere in discussione la logica fondante su cui si basa il sistema abbastanza curioso perché per molti aspetti rispecchia una diciamo polemica una contrapposizione di quasi 50 anni fa sostanzialmente del neo femminismo che appunto si proponeva si posizionava molto polemicamente rispetto al al femminismo precedente emancipazionista dicendo appunto non dobbiamo semplicemente aggiungere un posto a tavola dobbiamo rovesciare la tavola adesso naturalmente lo dico in termini piuttosto brutali piuttosto rozzi e mettere in discussione tutto il sistema e da questo punto di vista crisi naturalmente da parte giustamente vedo vedo che insomma mi sono non mi sono confuso troppo nel senso che mi sono fatto capire rispetto al fatto che questa categoria della crisi questa locuzione di crisi del maschile è sostanzialmente ideologica cioè nasconde in realtà la messa in crisi la messa in discussione di un paravento ideologico che fino a ieri ha occultato tutte le contraddizioni che stanno dietro questa rappresentazione estremizzata e drammatizzata di una mascolinità potente insomma grazie alla come dire complementarietà di una femminilità subalterna silenziosa pudica sottomessa eccetera poteva apparentemente ma poi neanche neanche poi nella realtà naturalmente sembrare reggere no quella costruzione monumentale appunto della della supremazia maschile e di quella mascolinità come dire gloriosa no ecco ma non funzionava neanche neanche il fascismo insomma che sicuramente è stato il regime che più di tutti ha celebrato no proprio una vera e propria restaurazione virile rispetto ai decenni precedenti e poi invece dovevano constatare nel corso di tutto il ventennio che le ragazze le donne non stavano al loro posto neanche sotto una dittatura come quella fascista che era esplicitamente come dire neopatriarcale quindi sicuramente questa sensazione di crisi odierna tornando alla domanda si riferisce a una supposta invasione delle donne in spazi dove una donna tradizionalmente non può stare cioè che sono gli spazi del potere del protagonismo della presa di parole eccetera ma siccome è una situazione da tutti in realtà giudicata come irreversibile cioè nessuno oggi può dire come si diceva cento anni fa tornate a casa a fare la calza ci pensiamo noi alla politica alla filosofia all'arte al diritto eccetera è una situazione senza uscita e da qui deriva un senso di frustrazione diffuso ma ripeto è un senso di frustrazione che si ha soltanto se si rimane all'interno di una concezione di se stessi in quanto maschi disperatamente nostalgici di quella spesa di età dell'oro adesso non so se ho risposto in maniera chiara ma insomma naturalmente le questioni sono e comunque grazie per la domanda perché mi sembra che tocchi un punto fondamentale posso aggiungere una cosa che è una domanda forse retorica a mia volta ma ma quanto è diffusa questa percezione di crisi e da chi cioè a fronte di una visibilità del tema nei media io e quando parlavo di temporalità diverse ecco mi riferivo anche a questo e cioè ci sono c'è una sacca ideologica che può che può condividerla ma se usciamo dalla categoria di crisi no e guardiamo a uno dei fondamenti storici della della costruzione dell'identità maschile e cioè l'indipendenza economica per tornare al matrimonio fino al 75 il codice civile recitava che la moglie deve obbedienza e il marito deve protezione e mantenimento questo questo ha costruito il maschio bad win cioè l'idea che il maschio sia tenuto a mantenere la moglie e i figli questo modello con la ristrutturazione del mercato del lavoro legato meno all'ingresso delle donne che guadagnano mediamente meno il mercato del lavoro è fortemente squilibrato come mostrano le statistiche sulle separazioni coniugali la percentuale di mogli invitate dal giudice a dare un contributo al marito è irrisoria è la prova approvata che il giudice ragionando in termini egualitari rispetto ai coniugi fa decide che sia il marito a passare un assegno di mantenimento ma con la ristrutturazione del mercato del lavoro la fine dell'epoca fordista l'instabilità la precarietà tutto questo è messo in in discussione cioè questo fondamento dell'identità maschile del lavoro per cui una storica osservava che a Roma alla fine dell'ottocento nei processi i mariti gli uomini dicevano nel presentarsi io sono io sono ebanista io sono falegname io sono avvocato e le donne dicevano io faccio e non io sono io faccio la lavandaia bla 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 un'identità maschile costruita attorno all'identificazione con un mestiere e attorno alla capacità di provvedere alla dispensazione domestica di cui parlava Sanchez e che lo metteva in una parte questa qui è messa in discussione se togliamo i termini crisi secondo me ci lavoriamo liberi liberi dai paraocchi non so se siete d'accordo io sono assolutamente d'accordo però abbiamo problematizzato un po' il tema della crisi ora c'era un'altra domanda di Gaia Manetti se dovrebbe essere ancora presente che anche lei è una dottoranda si mi collega dottoranda non è stata divisa si si occupa anche lei a questo viziaccio della storia della psichiatria diciamo Gaia grazie passo la parola buongiorno intanto grazie una discussione mi sentite? si si una discussione ricchissima io si sono anch'io dottoranda dell'Università di Pisa sempre seguita dalla professoressa Fiorino e mi occupo di storia della psichiatria coloniale in una prospettiva di genere in particolare studio la colonia francese dell'Algeria proprio per questo mi interessava un argomento che veniva accennato all'inizio e alla fine dell'intervento del professor Bellassai relativo al fatto che la crisi della mascolinità sia una crisi della società e una crisi della società occidentale e mi colpiva in particolare la citazione che riportava di Stefano Ciccone quando appunto si diceva una crisi della società occidentale di fronte a un Islam arcaico e virile mi colpiva perché nelle mie dice che recentemente quello che sto notando è come cambia l'uso discorsivo sui due temi della mascolinità e dell'emancipazionismo nelle diverse fasi della storia coloniale francese quindi quello che sto notando per esempio e poi arriva la domanda è che dal 1830 al 1870 si dice si elogia la virilità dell'uomo musulmano perché ancora ha un dominio completo sulle proprie donne al contrario di quello che avviene nelle società occidentali dove questo dominio sta entrando in crisi per la progressiva pur riuscire delle donne nella sfera primata e domestica ma al contrario a un certo punto a partire dal 1870 per tutta una serie di ragioni politiche squisitamente politiche il discorso si inverte cioè l'emancipazionismo femminile diventa lo spazio che l'uomo ha civilmente lasciato alle proprie donne all'interno della propria civiltà e quindi l'emancipazionismo diventa la cifra distintiva della superiorità della società occidentale e al contrario dell'inferiorità dell'uomo arabo musulmano e della società tutta quindi qui arrivo alle domande che riguardano il tema dell'intersezionalità cioè quanto nella definizione quella che abbiamo definito nella definizione dell'identità maschile entra in gioco una contrapposizione con i modelli di mascolinità e femmininità delle società islamiche penso al bellissimo libro che è stato scritto anche recentemente da Sara Faris sul tema nazionalismo penso che vada fatta una riflessione intorno a questo tema e in generale un altro tema che mi sembrava poco emerso in questa discussione è il tema della classe quindi razza e classe mi sembrano due temi che sono entrati poco in in gioco e rispetto alla riflessione con cui ci lasciava il professor Rizzo quanto ha senso prendere di petto il tema della una mascolinità forse il problema è complicare questa mascolinità oltre che moltiplicarla complicarla rispetto a altre linee altre appartenenze identitarie e vi lascio voglio chiedere su questo posso provare a rispondere velocemente perché vedo che sono già le 12.46 ma allora questa cosa molto interessante cioè da un certo punto in poi di quasi vantarsi del livello di emancipazione delle proprie donne in Francia rispetto ai popoli immagino considerati primitivi selvaggi comunque insomma anche zoologicamente inferiori molto spesso a quell'epoca mi viene in mente come dire la la guerra in Afghanistan che è finita come è finita abbastanza recentemente e insomma dove si andò per liberare le donne ma pure in Etiopia nel 35 il fascismo andò per abolire la schiavitù come aveva promesso di fare in Somalia e poi ovviamente non aveva fatto cioè c'è una specie di uso strumentale di queste rappresentazioni perché naturalmente poi le rappresentazioni servono per essere utilizzate per essere per raggiungere o tentare di raggiungere un qualche obiettivo anche simbolico ma spesso anche molto pratico perché quegli stessi filofemministi apparentemente che glorificano che glorificavano la guerra in Afghanistan l'invasione per liberare le donne afghane a casa loro naturalmente parlavano non so contro evidentemente l'aborto contro a favore della famiglia tradizionale contro l'omosessualità eccetera quindi è ovvio che stiamo assistendo a usi come dire strumentali opportunistici di una divisa di una moneta simbolica l'emancipazione la libertà eccetera che ha corso sui media a livello di discorso pubblico e quindi la si può usare in maniera fruttuosa diciamo così però il fatto che appunto l'emancipazione o comunque la libertà delle stesse donne per quanto strumentalmente ipocritamente opportunisticamente biegamente venga utilizzata in questo modo il fatto che sia considerata una risorsa retorica da mobilitare per raggiungere un certo obiettivo ci fa vedere anche quanto il mutamento sia interessante ecco poi naturalmente la Francia da questo punto di vista anche a metà ottocento per certi aspetti era diciamo in una situazione molto diversa dall'Italia eccetera solo una cosa finale sulla questione della razza e della classe che mi sembra molto importante cioè la famosa intersezionalità che sicuramente dovremmo parlo per me naturalmente considerare di più anche nella ricerca storica c'è una come dire una situazione una dinamica macro diciamo sociale in diversi momenti storici per cui questa apparente sovrapposizione tra massimo grado di mascolinità ortodossa e potere dal punto di vista sociale viene continuamente messa in discussione cioè per esempio dal punto di vista delle classi sociali o dei ceti sociali per fare un esempio ma ancora oggi la mascolinità dei ceti popolari cioè dei proletari dei lavoratori manuali eccetera eccetera è ovviamente considerata maggiore rispetto a quella di borghese altoborghesi eccetera eccetera e questo come dire ci complica molto la situazione rispetto a quel quadro appunto di mascolinità egemoni e mascolinità subordinate perché vediamo come dire un assetto che sembra rovesciare dal punto di vista di genere quello che invece poi è un assetto sociale ma chissà che questo non sia chiaramente non a tavolino non c'è un complotto non c'è però che non sia una sorta di compensazione di una subaternità sociale per cui anche l'ultimo dei proletari tutto sommato poi quando torna a casa si può sentire una specie di sultano perché può esserci dare il potere sulle donne e può essere gratificato di una specie di certificazione di maggiore virilità insomma poi adesso mi devo fermare qui ma il discorso sarebbe ovviamente molto molto più complesso di come sto facendo adesso e se posso chiusare Sandro però di di converso naturalmente c'è il mito dell'idraulico viripotente come avrebbero detto i al tempo stesso c'è in una società basata sui consumi identitari la frustrazione di chi non ha accesso ai consumi di di un certo tipo rispetto invece a chi incarna comunque un potere pur incarnando una maschilità meno virile ecco questo è il punto cioè un borghese un professionista dei parioli a Roma vabbè per dire di una di un di un quartiere chic e ricco dove vive gente ricca da più generazioni e forse il pariolino è meno virile è percepito come meno virile rispetto al coatto di borgata però al tempo stesso è in una posizione di potere ed è la sua qual è allora la maschilità egemone tra i due nessuno dei due e tuttavia non so Calenda che è il tipico esempio di una maschilità di quel gruppo sociale no ma lo dico ma non per insulto cioè è proprio è proprio così cioè è è meno è meno virile di per questo cioè il modello diciamo gli elementi che lo legittimano per effetto della posizione socio professionale e lo legittimano anche come maschio che nella sfera pubblica si pone con un'ambizione di di essere il soggetto della borghesia illuminata capace di che che rappresenta l'elite del paese sono elementi che hanno a che fare con una maschilità che coesiste con con altre e poi c'è un'altra questione però è che dalla fine dagli anni sessanta in poi la cultura egemone è demotica come dicono i sociologi cioè si prendono a modello i sceti popolari da parte dei giovani dei sceti superiori no cioè lì la frattura generazionale attraverso i jeans i consumi le parolacce i più sboccati i più scurrili sono i figli delle upper class inglesi e non i proletari vabbè comunque Gaia è esattamente la direzione in cui vado io dicendo non va presa di petto ma noi possiamo studiare gli afroamericani di Detroit e non gli afroamericani né tantomeno no perché è un'altra cosa essere afroamericani a Washington di una famiglia dell'upper middle class potremmo azzardare volendo siete d'accordo anche un'altra domanda se qualcuno del pubblico ha voglia di intervenire alzando naturalmente la mano visto che sono le 12.54 però se qualcun altro ha l'ardine interviene visto che non c'è due senza tre si fa il terzo intervento come no sono d'accordo altrimenti se diciamo su queste riflessioni conclusive possiamo anche decidere di chiudere alle 13 andiamo a pranzo a questo punto comunque innanzitutto per la discussione che è stata secondo me molto molto interessante e complica ancora di più il quadro quindi effettivamente come ho detto prima se la storia la scienza della complessità oggi abbiamo fatto un pezzettino complicando un po' il quadro quindi se non ci sono altre altre domande io direi che intanto ringraziamo i trattori e tutti quelli che sono intervenuti in qualche modo hanno un contributo e vi ricordo che domani è l'ultimo giorno e parleremo di crisi democrazia e populismo e quindi domani è l'ultimo giorno quindi con questa marchetta direbbe qualcuno finale io vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata grazie ancora grazie grazie a voi grazie a voi e monopoli monopoli mi scriva perché mi interessa tantissimo il tema della fotografia molto volentieri in un'altra vita in un'altra vita mi sono occupato di fotografia storica per cui quei decenni continuano a interessarmi moltissimo molto volentieri grazie ancora grazie arrivederci a tutti grazie a voi grazie a tutti